ciao a tutti la conoscete tutti rihanna vero cioè è una delle cantanti più vendute al mondo con con oltre 250 milioni di dischi e in questo momento in cui sto guardando youtube hambrella a 759 milioni 144 mila 999 mamma mia è incredibile e e questa canzone con jay z è pazzesca cioè ha vinto due premi agli mtv video music awards e ha fatto ottenere a rihanna jay z un grammy award rimase al numero uno della uk singles charts per 10 settimane ed è entertainment weekly ha classificato la canzone numero uno tra i dieci migliori singoli del 2007 è incredibile cioè è una delle migliori 500 canzoni di tutti i tempi secondo la rivista rolling stone è inopinabilmente fantastica queste canzoni ma ascoltatemi bene sapete com'è com'è nata è nata mentre un produttore americano chiamato chiamato christopher tricky stewart stava giocando con garage band stava provando degli apple loop proprio così un apple loop e quindi cosa faremo noi nel capitolo 3 inizieremo a giocare anche noi con degli apple loop imbastendo una canzone proprio come ha fatto tricky e lasceremo fluire l'ispirazione musicale proprio con l'apple loop di umbrella e dove saremo alla fine del capitolo 3 saremo a questo livello quindi creeremo un progetto vuoto esploreremo gli apple loop importeremo imbastiremo il tempo del progetto e la lunghezza cambieremo la tonalità e poi e poi imposteremo il colore automatico di nuove tracce e lavoreremo con monitor multiple insomma un sacco di roba che dire andiamo divertirci molto bene è è è è